3, 2, 1, si gira! Questa è la prossima esperienza della Fusora di Fisa e queste erano le nostre linee. Oggi abbiamo tre campionati toscali, come ti chiamate? Massimo, Gian, Gian, Marco. Iniziamo subito con la domanda sulla toscana. Quanti toscani mangiano la prima volta al giorno le verdure? A, B, C o D? A, ben... Sicura, sicura. Quindi siamo... Per il 56,5% dei toscani mangiano le verdure a una volta al numero. Passiamo alla seconda domanda. Quanti toscani mangiano frutto ogni giorno? A, B, C o D? A. Controlliamo. Quanti toscani mangiano salumi più volte a settimana? A, B, C o D? B. Controlliamo. In Toscana, quasi il 22% dei residenti mangiano formaggio su tutti i giorni. Passiamo all'ultima domanda. Chi risponderà correttamente a questa domanda sarà il vincitore di questa puntata. Quante uova vengono annunciate qualche volta a settimana in Toscana? A, B, C o D? La prima volta a settimana in Toscana mangiano formaggio per contorno. Toscana capite il mangiare, noi qui si mangia salutare Bere l'altro fa bene, in un giorno almeno un bicchiere Firenze città degli ortaggi, lì si mangiano come saggi Luca capitani dei fagioni, nei nostri banni finiscono i rotoloni La frutta qua non manca, ne abbiamo il lavoro d'arza Luca è la migliore e rifiorisce come un camolfiore Grazie a tutti